Non è passata nemmeno una settimana ma già è uscito un nuovo poster di Spider-Man No Way Home, terzo film del Marvel Cinematic Universe dedicato all'arrampicamuri che approderà nelle nostre sale a metà dicembre, il 15 dicembre del 2021. Curiosità alle stelle però dopo aver parlato del primo poster che mi aveva convinto tranne quel bruttissimo goblin laterale inserito tanto proprio per mettercelo, parliamo di questo secondo poster che vi mostro qua. Ecco guardate come starete osservando, abbiamo in primo piano il nostro Spidey con questo costume modificato, con questa armatura potremmo più definirla altamente modificata e poi abbiamo accanto il nostro stregone supremo Strange, ma sarà davvero Strange quello del trailer? Vabbè questo è un altro discorso, io spero di no, abbiamo il nostro Spidey, il nostro Strange, poi i bracci del nostro Doc Ock, un po' di elettricità sottostante del nostro Electro dall'universo Amazing Spider-Man e poi abbiamo sempre questo come sfondo scenario ribaltato, questo mondo rovesciato da cui sembra fuoriuscire, anzi sembra c'è il nostro Goblin. Nuovamente Goblin messo lì tanto per inserirlo, non si capisce perché Goblin debba avere questa importanza rispetto a Doc Ock, cioè mostri le braccia meccaniche di Doc Ock, mostri l'elettricità del nostro Electro, non potevi inserire delle bombe dietro a mo' di cipolla, le famose cipolle di Goblin, il tutto sarebbe stato più credibile, devi metterci piccino così Goblin tanto per metterlo. Ed effettivamente continua a non piacermi, ma vi dico la verità, questo trailer a me non piace proprio, lo trovo davvero brutto, anche perché mi sembra molto sproporzionato a livello proprio di immagine il personaggio di Spider-Man, cioè mi sembra ritagliato da una scena del film inserito lì con Photoshop, ma anche a livello di proporzioni, di dimensioni, mi sembra proprio, non lo so, non mi convince, mi sembra sproporzionato così come Strange dietro, poi ripeto dopo svariati film mi piacerebbe vedere nel poster ufficiale solo Spider-Man come accadeva nel poster appena pubblicato o pochi giorni fa, cioè vedere sempre Spidey unito ad altri supereroi non mi fa mai capire quanto realmente possa essere autonomo. Poi a me piace che in ogni film sia accompagnato perché è un ragazzino e quindi deve crescere, sicuramente avrà modo di esprimersi da solo in film successivi, però almeno nel poster, fatemelo vedere da solo perché comunque è un film su Spider-Man, invece sembra quasi che serva Strange per invogliare la gente ad andare in sala e quindi, cioè, fatemi vedere Spidey, quanto sarebbe stato bello lo stesso trailer con Spidey nel centro del poster, le braccia meccaniche, magari le cipolle laterali, il mondo rovesciato, un po' di sabbia che si alza, un po' di elettricità, quindi mi mostri le caratteristiche peculiari dei nostri villain, ma non mi mostri villain, mi mostri ciò che sono capaci di fare, ma non mi mostri essi, quindi sono sinceramente un po' sdubbiato da questo nuovo poster, però attendiamo il nuovo trailer che dovrebbe uscire stanotte, quindi nel caso domani ne parliamo, era però sicuramente interessante parlare anche di questo nuovo poster che sembra più un fan made, cioè mi piaceva molto di più quello della scorsa settimana, almeno lì avevamo uno Spider-Man da solo, uno Spider-Man in grado di tenere a bada tutto, con quella mossa alla Kung Fu, in questo caso, boh, mi sembra un po', mi sembra un po' tirato via come poster, voi che ne pensate? Fatemi sapere nella sezione commenti e vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e per abbonarvi al canale, perché abbonando vi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Ciao poster, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!